Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Robocup Qui accanto a me c'è mio fraterno Vizialarne Bella a tutti amici Ragazzi, ecco a voi il nostro robot di tier 8 ragazzi abbiamo sudato tanto ci sono ancora blocchi blu da sistemare poi diventeranno gialli e rossi ma iniziamo subito a farci una partita che dici non si si allora cerchiamo una partita e stiamo entrando nel racket a quanto pare sentiamo si ci siamo entrati che cos'è il ranked allora il ranked è una sezione di battaglie che viene tipo dopo 12 minuti o una cosa del genere che ti fa guadagnare molti più punti e anche se nella partita vieni ucciso per prima senza uccisioni alla fine della partita se la tua squadra ha vinto o ha perso ti danno 10 punti di tier lo stesso si ragazzi noi in queste partite che andremo a fare comunque vi mostriamo se ci riusciamo alcuni mostri che esistono in questo gioco che nemmeno io mi aspettavo di vedere perché ultimamente ho visto un cane che si era appoggiato là sopra che stava facendo la pipì quindi è stata una cosa bestiale come che stava facendo la pipì si era messo tipo una chiera tipo si è stata una cosa veramente assurda devo chiudere quella porta perché si va va bene chiudere la porta ragazzi io nel frattempo già io vedo qua mostri volanti esatto che prima Red Bull gli mette le ali e dopo un po' gliele tempo perché arriva Joey Wise e giustamente prende le ali Joey Wise ragazzi giustamente come avete potuto notare ho potenziato le torrette quello comunque sta per morire oddio il dodoglio è soltanto un paio di palette c'è pure un regalo ho ucciso intanto il medico che è un pazzo va come il vento io al frattempo distruggo quello per fare azzo che cazzo è stato con il plat lui con il plasma che cavolo è un corpo mandato è una leggermente impossibile perché lui si era poco fa secondo me buggato medico contro medico ragazzi medico contro medici guardate con lo smontano nel frattempo per aver detto vizzi da io scapperei a conto uso molto proprio come smontare medico vediamo nel frattempo tutti gli altri che la mamma paghi dietro no non c'è la pioggia giallo in tecno no non è un sanitario quando gli ha sparato un bel poco ma lui continua a vivere perché i medici non si vengono mai ora mi sa che deve scappare eh si gli conviene accelerare nel frattempo vediamo che siamo messi tutti in chiazza eeeh bene per fortuna ci sono questi medici che si aggiustano la vicenda e quindi una volta che succede che nel frattempo stanno conquistando quella nostra base smantellato marta vediamo l'altro medico come se la cava mi sa tanto che questo è morto pure ragazzi dai medico non ti arrendere dai medico ragazzi noi tagliamo la partita qui perché di sicuro l'abbiamo persa quindi ci vediamo appena ritorniamo di nuovo nel laboratorio a dopo siamo ritornati di nuovo dentro al nostro laboratorio e dai facciamo un'altra partita speriamo che la vinciamo quindi partiamo ora comunque possiamo fare anche la battaglia tipo essendo con il boss perché un numero 66666 beeello quindi ragazzi se metti caso volete un tipo una battaglia di boss che siamo noi contro tutti gli altri iscrivete e c'erano dei commenti e noi proveremo ah per fare questo boss ancora noi non l'abbiamo provato perché ecco qua gli animali che già ci sono guarda guarda perché non vogliamo andare a base guarda lo spettacolo ragazzi soprattutto comunque ho visto che vi è piaciuto i bagli episodi robocraft quindi sono comunque molto contento di dico di questo di questo giustamente vi dovete mettere un gruppo in conto che quando vedete tipo a me online in realtà ci sta giocando soltanto mio fratello e non io perché io ho il mercato lui poi costruisce le macchine e quindi io so come cambia diciamo che lo uso come cambia per semplice fatto io vado a lavorare e lui mi flanca tipo è bello è che non vuole che nel caso io registro tipo qualche episodio non vuole completamente tu sa dai medico riparami ma ne ho anche vuole vive i medici quando qualcuno non ci scassa però cacchio siete sotto il fuoco nemico di gruppo no no intanto Joey Wise con una torretta deve scappare ma non ci riesce perché il medico non cura ragazzi noi ci vediamo di nuovo al laboratorio poi è successo un disastro sinceramente mi sono un po' fatto convolgere delle azioni comunque ci vediamo abbiamo vinto fortunatamente questa partita anche se a me comunque mi hanno distrutto ma cavolo porca buttiglia vedi c'è stato 5.000 perfetto io dico almeno una partita la voglio fare per intero non voglio morire eh dico sempre io incontro quelli che comunque scassano il mondo eppure le palle eh io non ho parlato io ne ho detto palle foglione eh ah dico silenzio eh sì è una bestia questo eh devo soltanto riportare un po' i davanti ma ragazzi mi mancano come cpu principalmente non peraltro mi è venuta fuori questa bestia le armi ora sono comunque più grandi di comero la prima volta è tipo da dai quattro normali spazi che si prendeva adesso se ne prende quanti? cinque sì ragazzi possiamo saltare questo è per il ribaltamento se ci ribaltiamo quindi quindi queste ribaltate non continuo cerca di liberarsi prima di questo avevo tipo una specie di macchinina con tipo cinque razzi sì una cosa veramente epica l'hai preso proprio nel punto più critico di sto mondo a quello in ora quando mi sa Marta quello sta tornando di una base andiamo verso la nostra base troviamo a tutto andare perché ricordate la cosa principale e che tu vuoi o che non vuoi e difendere il medico il medico il medico non è questo sto facendo ok senza medico lo puoi uccidere qualcuno se il tuo non uccide prima la nostra tattica è questa prima uccidere il medico e poi uccidere ragazzi ho fatto due uccisioni io sono rimasto diciamo senza non vi dico un copertone ma va senza 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 un cingolo quindi gg i medici non davanti pure andato male io sento qua che stanno montando mio moto al loro sfondo e di sicuro mi hanno distrutto tanto mi sa che c'è caffè e quando mai sono riposto diciamo con due due cingolati ma non vi esco dopo perfetto mi hanno distrutto leggermente ma leggermente non è leggermente il nostro leggermente si il battuto terzo uccisione e qualcuno da dietro qua c'è un medico grazie a noi ci sono guardate che figate il medico dove noi abbiamo cercato in questi giorni di fare i medici ma non ci siamo più usciti perchè giustamente è molto difficile da fare ma di tutto perchè devi difendere devi accattare poi devi riparare c'è un casino è un casino più da fare il medico e stimo questa gente che fa il medico sono due geni mi ha ricostruito tutto mitica la cosa l'unico problema del medico eh sono gli effetti corticellari si e vai alla quarta uccisione ora e ora so dove si tolgo anche l'altro premio e lo visualizza un trucco perchè hai il radar è quello di premere tu e lo bello visualizza e non riesce più diciamo dell'obiettivo cioè esce dopo un po' ma sono solo un po' 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 una bestia un po' un po' un po' ecco che mi ha distrutto con due colpi questi sono bardati a bestia ragazzi sono gli semi come io li chiamo questi mercato comunque abbastanza cpu giustamente a permettersi questi tipi di costruzione io ma sono a livello 56 ho 984 come cpu quindi non tanto se all'ultimo viene a fuori comunque una cosa di questo genere quindi non è tanto quindi ragazzi io spero tanto che l'episodio vi sia piaciuto quindi lasciate un commento un bel like se volete che noi facciamo i boss per un giorno fateci sapere giù nei commenti quindi da me mio fratello vicio lol è tutto ciao a tutti e ci vediamo alla prossima ciao ciao